È non un bel periodo per la Juve, sappiamo insomma quello che sta succedendo, una settimana fa la penalizzazione di 15 punti, Juve che oggi è lontanissima dal piazzamento di Champions League, che è vitale ovviamente per avere risorse, un progetto sportivo adeguato, di fatto però non è finita qui. Vi ricordo come sempre di iscrivervi sul logo L, lasciate un bel like e commentate, facciamo cronaca quindi i tifosi juventini non si arrabbino con me, anche oggi Tutto Sport scriveva vogliono mandare la Juventus in Serie B, quindi mi sembra che tutto si possa dire di Tutto Sport tranne che non sia vicino e favorevole al mondo bianconero. La situazione è questa, è stata chiesta una proroga di altre settimane per indagare sulla vicenda stipendi e si inizia a vociferare che ci sarà un'altra sentenza esemplare e forse anche più dura rispetto a quella della scorsa settimana. C'è chi ipotizza la Serie B e questo insomma è un interrogativo che oggi si pone anche Tutto Sport. Chiaramente per i punti, qualcuno diceva 25 punti, direi di fermarci, aspettare, vediamo cosa succede, una cosa abbiamo sempre saputo e ci hanno sempre detto, che la vicenda stipendi era più grave rispetto alla vicenda Plus Valenze. Poi magari la Juve si vede restituire i 15 punti sulle Plus Valenze, possibile vizio di forma, questo insomma è tutto da decifrare, però ora c'è uno spavrocchio vero che può portare ancora più in basso la Juventus con il tema stipendi che è molto 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 delicato. Vediamo cosa succede, sicuramente oggi ci sono una serie di punti di domanda e non è l'unico con l'asterisco che vediamo in classifica, potrebbero esserci altri asterischi anche più dannosi. Serie B sarebbe qualcosa di incredibile per la Juventus, un'altra volta non per fatti sportivi, non per campo ma per vicende extra e sarebbe però anche un brutto colpo in generale per il calcio italiano a livello di immagine ma anche di fattore economico perché il campionato con la Juve ha un valore senza la Juve ha un altro valore, le big sono quelle quindi vediamo cosa succede. Però insomma il rischio oggi che pone come interrogativo tutto sport non va assolutamente scartato, vediamo cosa succede. Io non credo che la Juve andrà in Serie B, sarebbe qualcosa di clamoroso però in questo momento non guardano in faccia nessuno. Iscrivetevi, lasciate un like e commentate numerosi. Ciao!